Buondi ragazzuoli sempre da Roma, fra un po' mi avvio verso la stazione e rientro verso casa finalmente allora mi scuso se stamattina non è uscito alcun video, il fatto è questo io ragazzi ieri ero impegnato nella youtuber league, ieri sera abbiamo fatto la partita con la Lazio usciranno gli highlights della partita nel canale di Federico Marconi nella giornata di giovedì per cui vedrete bene l'andazzo della gara però siamo andati poi tutti a cena fuori, tutti insieme tra una cosa e l'altra ragazzi si è fatto una certa ora, io ero distrutto, sono andato a dormire e non sono riuscito a fare del video quindi mi scuso con voi, soprattutto per i più abituali, quelli che hanno ricercato il contenuto e stamattina non è uscito scusate, cercherò di rimediare in qualche modo ciao a tutti ragazzi, intanto buon lunedì, buon inizio di settimana, una settimana che dà il via alla sosta di campionato ci saranno sicuramente tante tematiche da affrontare in questa settimana e ve l'ho detto porterò Giovanni Ramalini per parlare del nuovo format della Champions il professor Bava e Leonardo Dorini per parlare di ricapitalizzazione entreremo veramente a fondo in alcune situazioni quindi il mio consiglio è continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e via in questo video voglio parlarvi un po' della situazione Pogba che è una cosa che abbiamo accantonato perché sono usciti poi dei dettagli differenti rispetto a quel che ci aspettavamo noi abbiamo banalizzato con un positivo al testosterone in realtà il signor Pulla Bill Pogba ha preso una sostanza che conteneva questo famoso pro-ormone che si chiama DEA e questo qua praticamente quando viene messo all'interno del nostro organismo diciamo che crea poi di conseguenza il testosterone all'interno del nostro corpo e questo ovviamente porta a essere sostanza adoppante a tutti gli effetti in ogni caso il fatto è che la DEA a quanto pare che detta così sembra che abbia ingirito l'Atalanta il buon Pogba o abbia preso o assunto l'Atalanta in realtà questo pro-ormone qua ragazzi potrebbe in realtà essere un'ancora di salvezza per Pogba per uscirne nel breve tempo possibile o comunque ridurre quelli che sono i tempi della squalifica perché è una sostanza che insomma viene utilizzata su tantissimi integratori integratori che in Italia insomma è viettata la vendita tant'è vero che lui ha preso questo integratore quel di Miami e lì per esempio è consentita la vendita di questi prodotti che hanno questa sostanza qua però in alcuni posti ragazzi non è neanche segnalata in alcuni farmaci non è neanche segnalata per cui se Pogba è la strategia difensiva di Paul Pogba è quella di dimostrare l'uso inconsapevole, ingenuo di questa sostanza oppure il fatto che magari non era esplicitata bene questa sostanza all'interno del prodotto rischia secondo me una riduzione drastica della squalifica a quel punto salterebbe credo anche l'opportunità da parte della Juventus di poter agire con la recessione consensuale, unilaterale in realtà questo perché? Perché credo che comunque la Juventus debba per forza avere una bella squalifica sostanziosa per poter agire anche su un'eventuale recessione e se la squalifica è di 5-6 mesi ragazzi insomma si fa fatica a ipotizzare questo fatto qua però vediamo cosa succederà vedremo quale sarà la strategia difensiva dell'entourage di Pogba perché dietro c'è anche la Pimenta che segue molto da vicino questa situazione vedremo come affronteranno eventualmente tutta la vicenda sarà una cosa lunga? sì, però ragazzi ipotizzate già a febbraio-marzo un Pogba che può tornare direttamente alla Juventus eccetera non so effettivamente se con questo lasso temporale la Juve può sbarazzarsi del contratto io vi dico la mia opinione intanto a proposito altre novità Pogba non può accedere alle strutture della Juventus proprio gli è vietato l'accesso in questo momento per cui vi dico la sua situazione in questo momento è complicata e anche in ogni caso in caso di vada tutto bene la Juventus non può riscindere il contratto lui tornerebbe ad allenarsi e avrebbe bisogno di altro tempo per riadattarsi per cui io credo che la situazione migliore per la Juventus e anche per noi tifosi che ci siamo un po' di cojoni di questa vicenda sia quella di arrivare a una recessione e di ragionare a gennaio con dei giocatori già pronti che possano dare un'alternativa e che abbiano delle caratteristiche che mancano a questo centrocampo della Juventus il mio sogno, sapete tutti qual è è la roba dei dread per una settimana rimane lì in piedi è che Frenturam andrei direttamente su una linea verde è un giocatore di 22-23 anni che ha voglia di spaccare il mondo e che ha le capacità e le potenzialità per poterlo fare potrebbe diventare paradossalmente il giocatore prossimo da vendere a 100 milioni perché dico da vendere? perché sappiamo già noi ragazzi che in Italia qua i giocatori sono di passaggio sviluppano una certa esperienza delle qualità vengono affinate e poi vanno a giocare in Premier League e in altri contesti però vi dico su Pogba attenzione perché questa vicenda è da monitorare perché se la squalifica è breve la Juventus può secondo me non esercitare la recessione in caso di permanenza però la Juventus cosa farà? beh io credo che andrà sicuramente a ridiscutere il contratto con lo stesso Pogba e con la stessa Pimenta io credo che in virtù della gestione dell'infortunio al ginocchio in virtù di questo fattaccio la Juventus credo che abbia tantissime buone ragioni per a essere incazzatissima nei confronti di Pogba oltre che ovviamente dispiaciuta umanamente quello senz'altro ma insomma guardando prettamente al business alla serietà del ragazzo alla professionalità c'è tanto da ridire aggiungo inoltre che secondo me la Juventus ragazzi si sbarazzerebbe molto volentieri di questo contratto ma in caso i termini di questo contratto non siano assolutamente insomma non si possa riscindere questo contratto per qualsiasi clausola eccetera la Juventus cercherà comunque di ridiscutere quello che è l'accordo che sta in piedi ancora con lo stesso Pogba e con la stessa Pimenta per cercare di andare a ribasso questa è la mia la mia opinione non so che idea vi siete fatti io sono dell'idea che voltare pagina in questo momento sarebbe la cosa migliore per la Juventus poi altre piccole novità legate alle nazionali a quanto pare Vlaovic rimarrà a Torino per prepararsi in vista della sfida contro il Milan la cosa mi fa estremamente piacere però da un certo lato mi preoccupa perché questa lombalgia significa che non è una stranzatina che è un qualcosa di serio che sta dando fastidio al ragazzo e quindi speriamo che sia una cosa passeggera e che non abbia ripetizioni di questo infortunio qua durante tutta la stagione ecco questo è il senso detto ciò vediamo un po' cosa faranno i ragazzi della Nazionale Italiana li seguirò con veramente tanta tranquillità meno me ne frega che era anche della Nazionale poi vedremo se questa squadra qua riuscirà a rapirmi il problema è che io sono molto combattuto perché questa Nazionale Italiana per i vertici che ha alle spalle gli augurerei ogni male possibile ogni eliminazione ogni non accesso alle competizioni sia europeo che mondiali da un lato mi dispiacerebbe per tutta la generazione di calciatori che c'è e che vorrebbe dimostrare qualcosina di importante io per i calciatori ragazzi empatizzo un casino con quei ragazzi che hanno quella maia là che vogliono rappresentare la Nazionale bellissimo bellissimo purtroppo non mi piace che chi c'è dietro poi vada a prendersi i meriti delle vittorie delle conquiste sul campo una roba che mi sta letteralmente sulle palle anche perché i vertici in questo momento sono adagiati sulle loro poltrone e non hanno combinato nessuna innovazione nessuna rivoluzione del calcio un calcio italiano che è estremamente in difficoltà avrebbe bisogno di gente che sappia dove mettere le mani che sappia intervenire tempestivamente per risollevarlo invece io vedo gente che ragiona ancora per slogan politici politici prestati al calcio ecco questo è quello che credo però vediamo cosa combineranno i nostri sono molto attento nel valutare le loro prestazioni poi io ragazzi che vi devo dire io sono stato nelle nazionali scappo sempre cioè ne approfitto per farmi un fine settimana fuori l'altra volta era a Praga stavolta andrò altrove sempre in Italia a pochi chilometri da casa non esagerati per forza ragazzi la sosta è veramente ha rotto le scatole ve lo dico sempre per me la sosta è una gran cultura di scatole preferisco di gran lunga una volta che inizia il campionato che continui il campionato e questa roba è anche da valutare la FIFA la UEFA dovranno valutare poi più avanti questo atteggiamento che abbiamo nei confronti della sosta del campionato tutti noi pensiamo che sia una gran rottura di cazzo tranne i vertici quindi speriamo che ci arrivino anche loro per cambiare le cose vi mando un forte abbraccio belli ci vediamo stasera in live forse stasera in live tarda serata 23.15 ragazzi perché rientro a casa di sera quindi datevi il tempo per sistemarmi e ci vediamo in live un abbraccio e sempre fino alla fine forza Juve un abbraccio